Riprende il pestilenziale contagio, l'atto fisico del toccare il contatto attraverso lo spruzzare le rispettive voci, una relazione con l'idea di influenzare, comprendere chissà forse anche la mente e se anche lo spirito subisse un contagio. Magari virtuale, in relazione con il nome divino, un contatto sospeso tra fisico e immateriale, un viluppo inquietante di significati intrecciati, contenenti contagio, emozione, immaginazione, morte, resurrezione, vitale, filosofica, spirituale, in senso generale. E' qui che per la mente le cose si complicano enormemente, i confini dell'essere totale in questo complesso contesto diventano sempre più problematici, si fanno disciplinari. Dovrebbero essere maneggiati con estrema attenzione. Non basta cedere alla tentazione poetica di getto informale, impertinente, di metaforizzare, né basta lavarsi solo le mani. Questa malattia dell'umanità è per tutti una realtà brutale.